la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon giovedì a tutti, ben trovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, vediamo quali sono i principali temi andiamo sulla prima pagina del mattino nazionale, arriva l'ok al suicidio assistito vediamo la decisione e quella della consulta con il suo verdetto vediamo il titolo suicidio assistito, la svolta, il verdetto storico della consulta cappato non punibile per aver aiutato DJ Fabo i giudici, ora una norma sul fine vita, l'indignazione della chiesa non è un diritto la consulta apre al suicidio assistito e stabilisce che cappato non è punibile per aver accompagnato DJ Fabo a morire ma ribadisce come resti indispensabile l'intervento del legislatore per stabilire la norma chiara sul fine vita le reazioni, i partiti già divisi, la legge rischia il binario morto la legge sul suicidio assistito in Parlamento e sul binario morto il fronte politico è tagliato trasversalmente sull'argomento andiamo di fondo nell'analisi dopo il passo in avanti, ora tocca alla politica la Corte Costituzionale ha portato a termine con la sentenza di ieri annunciata della quale si attende la motivazione e l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice Penale che punisce non solamente chi istiga al suicidio e ne rafforza il proposito ma anche chi ne agevole in qualsiasi modo l'esecuzione e siamo in alto dagli esseri rivelato l'audio indaga su Biden, Trump nei guai Larry Clinton si all'impeachment Centropagina si parla di autonomia regionale il Veneto altro che autonomia numero chiuso sui migranti le richieste di zaia boccia dalla scuola alle quote d'ingresso uno Stato nello Stato con poteri in politica estera e sui flussi di migranti con accoglienza a numero chiuso il tema più forte è l'istruzione vediamo gli altri articoli di Centropagina in retroscena manovra rispunta alla rottamazione più tasse sul fumo e poi l'intervista D'Amato, l'Italia leader in Europa solo con le riforme sud mortificato da anni ma la crescita del paese passa tutta da qui e dal riscatto dei giovani nella fotonotizia invece si parla del recupero di campionato brutta partita per il Napoli che perde al San Paolo per 1-0 contro il Cagliari vediamo il titolo la grande beffa il Cagliari passa al San Paolo un Napoli da non credere va a K.O. tra pali e gol divorati le altre big corrono l'ora dei nervi saldi andiamo nei box in alto sotto il titolo il caso la fiction sull'ora di Mediaset che fa arrabbiare gli ex giornalisti e poi ancora i nuovi programmi Arbore adesso celebro l'amico Boncompagni per i 70 anni di Sanremo e l'anniversario i 100 anni di Ferlinghetti ma mi sento un ragazzino di taglio basso andiamo a Napoli gioca 10 volte lo stesso Ambo la strana maxi vincita all'otto punta 1.000 euro ne incassa 250.000 Torino quella vestita del bianconero Juventino non è che goda delle simpatie degli sportivi napoletani ma la fortuna gira e qualcuno ha potuto prendersi una bella rivincita a fare un gol alla Dea Bendata ci ha pensato il gioco dell'otto scagliando scegliendo la ruota di Torino e la città di Napoli ed è stato un gol molto speciale come non si era mai visto tra gli appassionati dei 90 numeri questa è la prima pagina del mattino nazionale sul mattino di Salerno invece vediamo il titolo di apertura salute diritto primario l'intervista del quotidiano il mattino all'arcivescovo Bellandi attenzione salta attenzione alta per le fonderie atteggiamenti malavitosi dietro i roghi difendiamo il creato inviterò Papa Francesco a Salerno andiamo avanti nella fotonotizia il dossier lavoro Salerno non è sicura tre morti ogni mille incidenti media record e poi i rifiuti Salerno pulita Fiorillo lascia dopo il diktat di De Luca ha presentato via PEC le sue dimissioni alla guida della società che si occupa della pulizia e della raccolta dei rifiuti a Salerno di spalla la scuola diplomi comprati tutti indagati 340 finti studenti sono oltre 340 gli indagati nella max inchiesta arrivata dalla procura della Repubblica di Vallo della Lucania sul diplomificio che aveva base nell'Occilento e poi il processo accusa di stalking il colonnello soldatessa a giudizio Calugna in alto lo sport con la Salernitana con il pareggio contro il Chievo per 1 a 1 vediamo il colpo sfiorato Veneti in vantaggio con Dierovic e poi Kien segna sul rigore meglio la Salernitana nella ripresa Ventura se vogliamo possiamo finisce 1 a 1 il posticipo tra Salernitana e Chievo un tempo per parte con i Veneti che passano in vantaggio con Dierovic e Kline che pareggia sul rigore a 7 minuti dopo nella ripresa Granata Arrembanti tanto furore e un mezzo sorriso si riaccendono le luci a Salerno si rialza il sipario solo che sul palco non c'è più il volenteroso Trapani ma lo stile Chievo squadra di sostanza e minaccia reale alle virtù della Salernitana per le pagelle Cicerelli e Maestro che metamorfosi di Uric l'impegno stavolta non basta nei box in alto il convegno dieta mediterranea studi pilota sulla longevità e poi il volume la banda marino gentile rilegge il brigantaggio Di taglio basso la tragedia dell'escursionista francese Simon il padre non si arrende dubbi irrisolti Simon ha chiamato il 112 e il 118 venerdì 9 agosto alle 9 il consulato francese afferma di essere stato informato solo lunedì 12 alle 10 è vero non è possibile istituire un sistema di allerta che avvisi più rapidamente il consulato appropriato è uno dei tanti interrogativi che Oliver Comte patrigno dell'escursionista francese morto a San Giovanni a Piro pone in una lettera inviata al presidente del 118 nazionale Mario Balzanelli Comte è alla ricerca di risposte che le istituzioni italiane non hanno ancora fornito ai genitori di Simon Gauthier chiudiamo la prima pagina del mattino di Salerno andiamo ora sulle cronache che apre proprio con le dimissioni presentate dal presidente di Salerno Pulita dopo le polemiche che ci sono state in questi giorni per quanto riguarda proprio il caos a Salerno in materia proprio di pulizia e di rifiuti vediamo il titolo dimissionato Fiorillo Salerno Pulita è bufera l'amministratore unico lascia la società dopo le nuove accuse sul degrado della città si punta su un nome che possa dare uno scossone dipendenti nel mirino di De Luca e poi cambiamo per il momento argomento Rione Calenda lettera aperta la rivolta dei residenti abbandonati dal comune altro che scampia sotto la testata Salerno colpo di scena scarcerato il boss salernitano Ciro Marigliano ancora la denuncia a cronaca alcuni centri privati accettano le impegnative per le analisi nonostante il blocco e le indicazioni dell'ASL nella fotonotizia Granata mezza delusione 1 a 1 con il Chievo niente primo posto ieri nella sfida di campionato ancora la Lega Pro sempre per il calcio Cavese travolta a Catania Paganese a Forza 5 poi ancora cambiamo argomento quindi lasciamo il calcio assegnazione dei beni confiscati e fondi regionali Paolino denuncia scafati duro intervento del consigliere regionale questa è la prima pagina di Le Cronache la prima pagina invece di la città apre anche con il caso di Salerno Pulita vediamo per la città qual è il titolo Salerno Pulita nel caos si dimette Fiorillo la società partecipata per la raccolta di rifiuti senza vertice la rottura con il sindaco con la notizia di una sua prossima cacciata discarica parapoti sì all'impianto meno immondizie e tempi certi Giffoni difende l'eco distretto questo è il titolo di apertura per la città nella fotonotizia anche qui si parla della Salernitana con il parigio contro il Chievo vediamo Salernitana continua la marcia queste le parole per descrivere la gara dei Granata pari col Chievo sempre per il calcio Cavese crollo a Catania Ira Campilongo per i quattro gol subiti ancora Paganese Manita Rende Diop scatenato ed Erra esulta di spalla l'inchiesta i diplomi Pezzotto a Bidelli e Insegnanti e poi l'iniziativa il futuro del creato e Vescovi a convegno ancora la delibera BNB imposti stop e pesanti sanzioni andiamo di fondo appalti Asmel non temiamo l'anticorruzione a Nocera inferiore calcio violento 13 nocerini raggiunti da Daspo mentre a Sarno contro i roghi sulle montagne mandate l'esercito dopo l'incendio divampato per una bravata di alcuni giovani ricordiamo nei box in alto la sentenza busi sessuali no complotto assolto il frate ancora la burocrazia patente di guida allo spacciatore ingiusto negarla di taglio di taglio basso andiamo ad Agropoli cinema due sale pochi clienti stessa offerta in 20 km con la ristrutturazione del Miriam la giunta comunale di Capaccio Pessum ha approvato il progetto di fattibilità per ridare nuova vita al cinema Miriam il costo previsto è di 2,5 milioni di euro comprende i 623 mila euro da liquidare ai proprietari della struttura di Capaccio Scalo con i quali il sindaco Franco Alfieri ha stipulato un accordo per la ristrutturazione dell'immobile e a Eboli Foro Boario abbandonato ora è occupato da ladri di Polli questi sono i principali titoli sulle prime pagine torniamo ora sul mattino nazionale quindi andiamo ad approfondire alcune delle tematiche di carattere nazionale in particolare andiamo sulla prima pagina sulle pagine di primo piano quelle dedicate proprio alla decisione della Corte Costituzionale in riferimento proprio al suicidio assistito con il caso di DJ Fabo vediamo la decisione della Corte suicidio assistito sì della consulta ai medici serve un pubblico ufficiale questo il titolo la decisione della Corte non è punibile in casi come quello di DJ Fabo e a determinate condizioni atteso l'indispensabile intervento di una legge cappato tutti i più liberi cattolici e vescovi in trincea i giudici dettano precise circostanze per evitare abusi nei confronti delle persone più vulnerabili la pronuncia è arrivata dopo un giorno e mezzo di Camera di Consiglio vediamo in attesa dell'indispensabile intervento legislatore per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili la consulta ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa nel consenso informato sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua prevista dalla legge del 2017 le reazioni anche PM di quel processo Tiziana Siciliano che già aveva chiesto la soluzione per Cappato parla di un passo molto importante tra chi esulta c'è anche Mina Welby che ora chiede una legge per la libertà di decidere fino alla fine andiamo di taglio basso ferma da 40 anni sono senza dignità oltre 700 SOS alle associazioni Coscioni non ho nessuna intenzione di finire bloccata in un letto in attesa di una crisi respiratoria definitiva chiudiamo questa pagina andiamo ora sulla pagina dedicata all'autonomia delle regioni vediamo quali sono le richieste del Veneto Veneto ecco i pieni poteri su scuola strade e migranti la proposta consegnata da Zaia a Boccia l'istruzione sarà concordata con lo Stato la regione potrà aumentare i pedaggi e fisserà il massimo di stranieri ammessi in campo ambientale spunta il diritto di fare regolamenti su materia di esclusive competenze statali i principali poteri sono richiesti sono su scuola ricerca salute beni culturali esteri infrastrutture ambiente e migranti questi punti per richiesti dal Veneto su cui vuole maggiore autonomia il Veneto e con questa pagina ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria torneremo tra pochissimo restate con noi ben tornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo sulle pagine del mattino vediamo approfondiamo alcuni dei temi che abbiamo già visto anche dalle prime pagine in particolare il mattino di Salerno dove troverete anche un dossier che analizza i dati relativi alle morti sul lavoro le morti bianche nel Salernitano vediamo i risultati lavoro Salerno insicura tre morti ogni mille incidenti la percentuale di infortuni fatali è doppia rispetto alla media italiana quattro decessi nel corso del 2019 i sindacati premiare le ditte virtuose la provincia di Salerno da questo punto di vista negli ultimi otto anni ha registrato un numero di vittime davvero alto su tutto il territorio il picco negativo si è avuto nel triennio 2011-2013 dove la provincia ha registrato in media 13 vittime ogni anno per un totale di 32 persone morte sul proprio luogo di lavoro occupando la quinta posizione della classifica nazionale degli incidenti mortali alle spalle di Brescia Torino Roma e Chieti andiamo avanti la tragedia di Tramonti schiacciato tra camion e cancello attesa per l'autopsia proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Tramonti per stabilire le cause che hanno portato al drammatico incidente sul lavoro in cui martedì pomeriggio ha perso la vita il 55enne Mario Ferrara l'uomo che era a lavoro vicino al suo camion all'interno del deposito ubicato nella frazione pendolo improvvisamente rimasto schiacciato tra il mezzo e il cancello di accesso all'area il 55enne era titolare di una piccola impresa edile insieme con un socio cambiamo argomento andiamo in basso per la sanità mancano ginecologi e pediatri al ruggi materno infantile in affanno dipartimento materno infantile in affanno a ruggi per la carenza di personale mancano all'appello infatti 4 ginecologi 7 pediatri e 3 medici di neonatologia e poi il caso caos al consorzio farmaceutico clima di terrore tra i dipendenti chiudiamo questa pagina restiamo sul mattino andiamo sulle pagine che raccontano l'inchiesta relativa ai diplomi falsi proprio nelle scuole vediamo l'inchiesta a scuola tutti indagati gli studenti fantasma del maxidiplomificio nel mirino oltre 340 acquirenti degli attestati di maturità irregolari si lavora sulla rete di collegamenti da tutta Italia che da tutta Italia portava al Cilento a Castellabate nessuna sorpresa tra i residenti i sospetti c'erano vanno verificati anche altri istituti continuiamo cambiamo argomento paritarie nel mirino raffica di controlli già 5 sospensioni in due anni provvedimenti dell'ufficio scolastico concentrati nell'agro e c'è il caso dei bidelli in servizio al nord con titoli contraffatti di taglio basso per l'università campus blindati con 314 telecamere sicurezza e rispetto della privacy via al nuovo sistema di videosorveglianza Tommasetti tuteliamo il nostro patrimonio russo così assicuriamo serenità ai giovani la sicurezza è un valore assoluto oggi i nostri due campus sono sotto controllo esordisce così il rettore Aurelio Tommasetti durante la presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza di Ateneo un investimento ingente totalmente autofinanziato di circa un milione di euro con progettazione interna Unisa e chiudiamo questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sulle pagine del mattino andiamo sulla pagina della provincia in apertura andiamo a Battipaglia vediamo gli ambientalisti via sindaco e assessore scontro durissimo alla vigilia dell'incontro con il ministro Costa pomo della discordia il fattore pressione anche a Spineta il portavoce Petrone si nascondono polpette avvelenate Bruno contrattacca siete voi i mestatori della menzogna alla vigilia dell'incontro con il ministro dell'ambiente Costa riesplode la faida tra i comitati ambientali e il comune a sollevare la questione è il comitato Battipaglia dice no voi sapete che nessuno del comitato crede che il fattore di pressione possa funzionare ma che potesse celare una polpetta avvelenata non lo credevo possibile sono queste le parole del portavoce del comitato Raffaele Petrone che attacca l'amministrazione Rea a suo dire di introdurre nella delibera del fattore di pressione anche la Spineta nel 2005 la giunta Liguori introdusse un divieto assoluto di autorizzare aziende insalubri nella zona D2 Spineta aggiunge Petrone motivo realizzare un parco fluviale in quell'area restiamo a Battipaglia il caso Roghi da Bernini una denuncia in procura a Eboli invece SOS l'opposizione subito in consiglio furti e rapine ieri l'arresto di uno spacciatore conte di MDP un piano dopo il summit con il prefetto di spalla differenziata nuove regole per la raccolta vetro a domicilio a Ponte Cagnano Faiano con il nuovo servizio che partirà il prossimo 30 settembre mentre di taglio basso andiamo a Teggiano la Lega Animalista salva 120 maialini dalla morte se fosse una favola di Disney ci sarebbe una fattoria animali parlanti e magari simpatici maialini in ogni caso vediamo in questa storia l'eroe la Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale che ha redatto la dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata il 15 ottobre del 78 nella sede dell'UNESCO a Parigi primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita ed è il Tar a scrivere il lieto fine annullando il provvedimento di abbattimento di 120 suigni emesso dal comune e condannato l'ente valdianese e l'asl Salerno al pagamento delle spese legali e poi a Gropoli autovelox musterraffiche intervengono gli ispettori chiudiamo questa pagina andiamo ora sulle cronache andiamo sulle pagine dedicate ai fatti del giorno si parla del caso del blocco delle prestazioni per i centri privati ma vediamo il titolo c'è il blocco delle analisi ma accettano l'impegnativa è stato segnalato al quotidiano le cronache come alcuni centri di analisi nonostante il fermo prendano comunque le prenotazioni l'asl ha precisato con una mail che è vietato utilizzare questo metodo concorrenza sleale e di vieti infranti non hanno prodotto fin qui nessun risultato in questa situazione diciamo ci sono alcuni centri che quindi nonostante pratichino delle tariffe agevolate sarebbero poi comunque svantaggiate rispetto a questi centri che invece riescono comunque accettano le impegnative lasciamo questa pagina andiamo ora sulla pagina della provincia sud vediamo in apertura andiamo a Ponte Cagnano la proposta di Giovanni Morra area di sgambamento per cani l'obiettivo dell'associazione Ombra auspicando una maggiore collaborazione con l'attuale amministrazione abbiamo pensato di collocarla nella zona adiecente le poste realizzare una nuova area di sgambamento cani anche a Ponte Cagnano Faiano e questo è l'obiettivo dell'assessore Ombra guidata dall'associazione Ombra guidata dal presidente Giovanni Morra che ha annunciato anche un rinnovato impegno nella tutela dell'ambiente auspicando una maggiore collaborazione con Palazzo di Città in alto andiamo a Montesano guerra alle slot arrivano i primi risultati positivi dal primo gennaio 2018 il comune di Montesano aveva disposto nuovi orari più restrittivi per l'uso delle slot machine oggi con la pubblicazione dei dati dell'agenzia delle dogane si valutano gli effetti dell'ordinanza emessa dal sindaco dati positivi che secondo quanto evidenziato fanno registrare una diminuzione delle giocate nei primi sei mesi del 2018 sia nei primi sei mesi di adozione dell'ordinanza sindacale del 70% rispetto ai dati precedenti e intanto invece a Teggiano la dichiarazione universale dei diritti degli animali salva 120 suini dal macello comune e aslo condannate a pagare anche le spese legali e con questa pagina chiudiamo la nostra segna stampa io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro TG alle ore 13.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito